Sì, dimmi. Posso dire questo su questo femministe? Sì, di. Allora, la destra che ha appoggiato questa guerra, ha finanziato questa guerra, dire in questo momento che non vogliono i rifugiati ma hanno voluto questa guerra e quando le femministe consigliavano contro questa guerra, dire alle femministe andate voi a combattere adesso questa guerra è veramente vergognoso in questo momento. Questa è una responsabilità di tutti noi ma questo è un fallimento dell'Occidente, non delle femministe. Grazie Rula, grazie di essere stata con noi e io direi, Davide, se sei d'accordo, di tornare in Italia e vedere che cosa sta succedendo, qual è il riverbero di tutto questo nella politica italiana. Vediamo che cosa ha detto oggi Conte.